Il West dei Texas Rangers I colleghi di Tex Wheeler, Kit Carson e Cordell Walker vestivano sempre abiti borghesi, erano responsabili del loro equipaggiamento personale e non risultavano soggetti ad alcuna disciplina o regolamento esterno, come invece accadeva per i soldati. In realtà anche solo il nome di questo corpo, Rangers, racchiude in sé un significato peculiare, poiché quello era il modo con cui si chiamavano gruppi di vigilantes che nella Scozia di alcuni secoli fa pattugliavano le regioni dei Pascoli. Range, in inglese infatti, tra le molte definizioni annovera anche terreno, alpeggio e muoversi, il che rende bene l'idea dello spirito con cui nacque la prima compagnia di uomini scelti. I primissimi appartenenti a tale squadra speciale furono selezionati dal leggendario Stephen Austin, ma diversi nomi illustri che hanno lasciato la loro impronta nella storia hanno anche intrecciato il proprio cammino con i Rangers, come ad esempio Sam Houston, generale e poi presidente americano. Formalmente il corpo venne fondato nel 1835, una decina di anni dopo l'idea di Austin di creare un team particolare ai suoi ordini. Il compito di quegli uomini, ai quali molto spesso non si facevano troppe domande sul loro passato al momento dell'arruolamento, consisteva tra gli altri, perlomeno ufficialmente, nel difendere i coloni e le famiglie che si erano appena trasferite negli sterminati territori, dove all'epoca talvolta non era ancora arrivato l'esercito regolare. Dovevano provvedere a proprie spese al mantenimento del cavallo, della sella e dei ferri del mestiere. Non erano soggetti a rigore militare, ma pur riconoscendo dei gradi all'interno della propria gerarchia, agivano in modo indipendente, non rispondendo del loro operato di fronte agli sceriffi locali. Furono coinvolti in azioni di spionaggio. Si trovarono in prima linea nelle guerre dell'Ovest per via delle loro doti di combattimento e di cercatori di piste. Come veri e propri tutori della legge, ebbero ruoli importanti nella caccia a banditi, contrabandieri o bande di predoni, e servirono inoltre come guide per carovane da scortare. Fecero la loro parte anche nel conflitto, anzi nei conflitti contro il Messico, e molti morirono per garantire l'indipendenza del Texas. Addirittura, ad Alamo, ci furono diversi rangers tra gli assediati, così come tra coloro che, guidati da Houston, sconfissero il generale Santa Ana a San Jacinto. Era il 1836. Fu proprio in seguito a quella vittoria che nacque lo stato della Stella Solitaria, che entrò a far parte degli Stati Uniti nel 1845. Sono innumerevoli gli scontri, da sparatorie isolate a vere e proprie battaglie, da spedizioni a fianco di truppe regolari, a difese di cittadine di frontiera attaccate da desperados, rinnegati o pelle rossa, sostenuti contrapponendosi a gruppi guerrieri di varie tribù, come i Kaiowas, gli Apacis, ed i loro mortali e più temibili avversari, i Comances. Durante le cosiddette guerre indiane, si distinsero in molti atti di estremo valore, lealtà e dedizione che onorarono il loro paese. Ma, purtroppo, vi furono anche esempi assai meno encomiabili, nonché episodi che testimoniavano, da entrambe le parti, un odio crudele, profondo, intenso, per arginare il quale non sarebbero bastati i diversi trattati. Tali pezzi di carta avrebbero dovuto suggellare e ratificare una pace che, purtroppo, non fu mai duratura né definitiva. Dopo la fine della guerra civile americana, 1865, per un certo periodo vennero addirittura sciolti dal momento che il Texas era tra gli stati vinti, ma vennero reintegrati in servizio appena il governo federale riprese la sua attività in tutti i territori dell'Unione. Non si poteva fare a meno dei Rangers. Si sono create e tramandate molte leggende su questi straordinari portatori dell'altrettanto famosa stella d'argento sul petto, ricavata da una moneta da 5 pesos messicani, tradizione mantenuta perfino con i distintivi moderni. Però, come tutti i miti, anche quelli riguardanti i Rangers hanno un fondo di verità. Avevano realmente delle capacità fuori dal comune, superiori a ciò che veniva richiesto per lavoro ai semplici cowboys, che comunque non erano affatto degli indifesi e timidi chierichetti. Tali abilità derivavano dalla crudezza del loro addestramento. Imparavano a non cedere alla fame, al dolore, alla stanchezza e dal sonno. Stavano a cavallo come un comance, riuscendo a compiere acrobazie in sella, tra le quali, per esempio, raccogliere un cappello da terra mentre cavalcavano, oppure sparare e ricaricare le armi lanciati al galoppo. Erano combattenti temibili, indomiti e temerari. Questi duri uomini di legge esistono ancora oggi in carne, ossa, stella e stivali. I Ranger sono, ora come allora, sinonimo di coraggio, orgoglio, senso del dovere. Rappresentano per il Texas e per chiunque li conosca un simbolo di giustizia e di onore.